Bella raga, siamo qui con Malak 2580, bella Vito, e apriamo il forziere, vediamo cosa c'è dentro, ho preso il forziere leggendario riscattando il codice, vediamo un po' che cosa c'è, attenzione, è molto facile con Twitch Prime, Sì, se avete Twitch Prime potete riscattare il codice e prendervi un bel forziere leggendario, con dentro un oggetto leggendario, 1, 2, 3, 3, 2, 1, via, Uh, chi è sto qua? Bastion leggendario, c'è la skin, è fatto tutto di ottone? Cos'è, antico? Attualmente in uso c'è cielo, e uso questo, legnobot, hai capito? È fatto di legno? Io mi sono messo un iconcino apposta per te, davvero? Che cos'è? Adesso ti invito, così vediamo, dove l'hai presa quell'icona? L'ho vinta, non lo so. Cos'è, l'amaro del capo? Dipende, dipende da che regione sei, puoi farlo diventare cosa vuoi. Allora, siamo pronti? Io ho fatto partire la ricerca, magari imposto anche il mouse. Ranked? Sì. Allora, io per sto giro lo tengo a 1600, che è mio amico Yumi, non mi voglia male, ma devo provare un attimo. Io gioco a 2000. Tu giocas a 2000, ma tu sei un pippone. No, si chiamano low sensitive, cioè quelli che non hanno bisogno di tenere i dpi troppo bassi, perché hanno molta sensibilità nella mano. Appunto, io per quello, perché se la uso più bassa... Perché tu usi molto la mano. Le mani, perché a me ce ne va due di mani. Addirittura! Perché non lo trovi? Oddio, è cascato il libro. Ti sta bene. Vedi a dire le cattiverie? Aspetta. Super ritorno. Aspetta! Zio, vorrei che ti tocca attancare, eh, io te lo dico. Mi dispiace, ti tocca attancare, zio. Zio, è una ranked. Ok, ce l'ho fatta. Devi tancare. Stai scherzando? Eh, usiamo Mei. Mei, Mei non è un tanque. Ah, Mei, da diva. Siamo lì a cavicchiolare il pelo. Eh, sono sudato. Allora, chi siamo? Ah, tu usi i cosoli? Zegnatta? Sì, mi piace. Ma healer pochi, vedo. Due. C'è po' T'è po' c'è una curettina? va bene un cazzo bella sto caricone così un cazzo Oh Eh, non sta andando male, dai Tra l'altro il mio amico mi ha detto che devo parlare un po' di più Quindi Perché di solito sto zitto Però non è facile fare il commento Eh, beccatelo Strunz Ecco, guabbia che rolle cazziate perché l'ho tirata a minchia Però fai niente Chi è che mi ha fatto fuori? Manco visto chi mi ha fatto fuori Anzo Figlio di Anzo Che cazzo è? Ah, sta mignotta Ti ha messi così male? Dai, venite avanti Qua non c'è nessuno che aiuta Ne zoon, ne zoon Se ti avvicino a una zona che consiglio stava dando? Difendi 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 Ma perché vuoi si... Ma perché vuoi si piglia già ancora da mannaggia? Nessun guaritore? Vabbè Se vuoi lo prendo io No, 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 vai tranquillo Turo 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 turo... Ma tu dici che se io salto qua E vado di là Si no Non ci sono riuscito Non salta due volte Salta 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 E che palle Ma figurati se non riesco a salire là in alto Ci sarà un modo Sul tubo Eccolo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Questi hanno due tank Cosa che noi ci lo scordiamo E hanno già fatto più strada di noi? Hanno fara Hanno fara, bene Ce l'ho ammazzata Bravo No, ci ha fatto più strada di noi? No No Allora questi che capocciate che si stanno tirando Io sto a rompere quando appara così non spara Salta salta E guardati se lo stronzo che doveva schiacciare non doveva essere io Dov'è? 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 È qua dietro È sopra di noi Sopra il ponte Ma quello lo faccio esplodere in aria Ma schiaccia solo me Dov'è? Di qua E tre schiacciate Beh, ce l'avevo scritto in faccia Tanto è inutile che mi incazzo perché questo gioco è così Ho fatto la cavolata È inutile che mi incazione bella ho vinto oh uff come vittoria mi ha vinto è ovvio cosa c'è amore arrivo subito bella cioè abbiamo vinto però sono stati più bravi loro è questo overwatch va bene prima partita vinta vediamo la prossima ciao 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 ciao